Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video molto veloce Ragazzi oggi vi farò vedere come si entra nella Flickabank Quella che si trova diciamo nello Santos Custom Avanti allo Santos Custom del deserto Praticamente in questo punto preciso qui Ragazzi ve lo faccio vedere perché prima non si poteva accedere Ma con questa pace stranamente hanno messo tutti questi accessi a questi luoghi Perché prima non si poteva fare tranquillamente In pratica possiamo entrare qua dentro e saremo immortali Perché diciamo non può più entrare nessuno I proiettili non passano quindi sarete camperati qua dentro Quindi è un wall bridge diciamo così Quindi vi spiego come si fa Prendete una macchina possibilmente non tanto a bassa però questa dovrebbe andare lo stesso ragazzi E mettetela qua vi faccio vedere Mettetela un po' sul marciapiede e un po' a terra Poi usciamo fuori ci mettiamo sul tetto andiamo qua e ci arrampichiamo Perfetto ragazzi Poi ce ne andiamo in questo punto preciso E apriamo le attività Accettiamo un'attività a caso di Martin Se non ce l'avete la richiedete tranquillamente E poi dobbiamo praticamente uscire e ci spawnerà dentro Classico metodo come si va nella casa di Michael Quella ruballa ragazzi Ok ragazzi ci ha spawnati dentro la flica bank E' una figata perché innanzitutto possiamo fare quello che capro vogliamo A parte la porta chiusa che sta qua E poi vabbè qui c'è in pratica la Diciamo cassaforte che purtroppo non si può aprire La cosa figa è che saremo immortali Nessuno ci caga il cazzo E vedete diciamo è antiproiettile il vetro Non passano per nessun motivo i proiettili Stiamo qua tranquillamente raga E facciamo il bordello Cioè la gente da fuori non ci potrà attaccare Quindi starete tranquilli qua Quindi raga vi ho fatto vedere come si entra nella flica bank Il glitch diciamo è carino Il wall bridge è carino Quindi se non volete essere diciamo disturbati sul GTA Venite qua e andate qua dentro E nessuno vi seccherà Perché sarete diciamo immortali E chi non sa il glitch Perché non credo che lo sappiano in tanti Visto che si va da sopra Chi non sa il glitch non riuscirà ad entrare Però voi li trollate da qua dentro Quindi raga Per questo video è tutto Superiamo i 120-130 like Commentate, iscrivetevi al mio canale Condividete questo video Ditemi se sapevate già sto glitch E ci becchiamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao